E sicuramente ancora una volta un momento molto delicato per il calcio italiano, è sicuramente un momento di super lavoro anche per il Presidente della Lega Pro Francesco Di Relli che è in collegamento con noi. Ben ritrovato Presidente, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Allora Presidente proviamo a fare un po' il punto rispetto a quello che sta accadendo in queste ore. Sono iniziati i playoff, purtroppo siete stati costretti a far slittare il calendario a causa del Covid. Così come in qualche modo lei l'aveva previsto perché più volte in passato, nel recente passato, aveva manifestato proprio qualche perplessità e qualche timore in vista di questi spareggi. Qual è attualmente la situazione e cosa è accaduto nelle ultime ore? Io ho manifestato la preoccupazione perché questo maledetto virus è imprevedibile. Credo che anche dal punto di vista dello studiare la situazione epidemiologica ci sono tanti elementi e tanti fattori ancora sconosciuti, quindi ero preoccupato. Ed era anche un messaggio che abbiamo rinnovato ieri alle società di prestare molto attenzione, di mettere in campo tutta la prevenzione, di dare un messaggio e quindi un'indicazione di seguire le migliori pratiche dal punto di vista della salute sanitario per evitare che ci sia una trasmissione di infezione del virus Covid-19. E' avvenuto che la Virtus Vecum Verona ha avuto un numero di colpiti tra staff e calciatori, l'ASL locale ha ravvisato il pericolo di cluster e quindi abbiamo dovuto rimodellare non solo quella partita ma il complesso di tutte le partite. Come avevo detto più volte, avevamo diverse soluzioni e ne abbiamo rispetto alla situazione, ancora margini ne abbiamo, l'abbiamo messo in piedi. Quindi logicamente dobbiamo metterli in azione i dispositivi nel momento in cui succede un caso perché sono imprevedibili, nessuno è uguale a quello precedente, perché non sappiamo quando avviene l'importante è che abbiamo degli spazi, delle possibilità che ci possano risolvere il problema di un eventuale nuovo caso, che mi auguro in questo caso che non ci sia e che possiamo andare avanti tranquillamente. Questa rimodulazione porterà a un leggero slittamento della fine dei play-off dal 13 al 16. Abbiamo spostato tutto di una settimana in modo tale che ci sia un riallineamento di tutte le partite. Presidente, ma i piani B e C che avete chiaramente studiato prevedono soltanto slittamenti della manifestazione in termini di date o potrebbe anche configurarsi qualora, ci auguriamo di no, la situazione dovesse peggiorare, anche il fatto di poter adottare un nuovo format? Tutte e due. Ah, quindi non si esclude niente, in ogni caso la Lega si farà trovare pronta in questo senso per portare a compimento gli spareggi? Esattamente sì. Presidente, quante possibilità ci sono secondo lei, stando anche alle informazioni che ha raccolto in questo senso, perché si è battuto molto in questo senso di vedere almeno una parte del pubblico sugli spalti nel corso di questa fase post-season? Non so che lei aveva sperato anche in occasione della Supercoppa di poter far assistere gli spettatori all'incontro. Ma diciamo, io mi auguro che da giugno sicuramente sì. Stiamo provando a vedere che cosa si possa, nel rispetto della salute e delle norme sanitarie di prevenzione, riuscire a fare prima, quanto prima non dipende da me. Noi abbiamo altresì ieri deciso un'altra cosa in consiglio direttivo, che visse considerato l'andamento positivo del budget per Lega Pro, se si aprirà al pubblico, Lega Pro che si carica dei costi organizzativi, si carica già dei costi organizzativi, non rinuncerà, perché è giusto, al 20-30% degli incassi che dovevano venire in Lega Pro verranno lasciati alle società che sono mesi che non hanno una risorsa da botteghino. Tra le altre siamo in attesa che giovedì il governo vari il decreto e ci dia i ristori necessari. Presidente, altro argomento caldo di queste ore è stata la possibile esclusione dei club di Serie C dalla Coppa Italia. La sensazione che abbiamo un po' tutti è che questo rappresenti forse un passo indietro rispetto al sistema calcio che avremmo voluto vedere tutti e in base anche a quelli che sono i format adottati dai principali tornei europei. Io ho detto dall'inizio, quando ho appreso da un freddo comunicato, anche questo è un problema, perché giustamente i massimi vertici istituzionali del calcio, in particolare il Presidente Gravina, ha detto che vorrebbe non vedere che ci fosse contrasto tra le leghe, ci fosse una capacità di discussione, da questo punto di vista devo dire che noi abbiamo seguito, pur essendo quelli che sono stati colpiti senza saperlo, io ho inviato una lettera, ho scritto una lettera dopo la lignone del comitato direttivo di ieri al Presidente D'Alpino per avere un incontro in modo tale che si proceda con quella linea che ha detto il Presidente Gravina. Avrei voluto farlo e nei prossimi giorni ci sarà l'incontro. Io avrei voluto farlo anche prima e non potevo farlo perché non sapevo nulla. Chi lo sapeva poteva dircelo. C'è un cortocircuito, una mancanza di dialogo tra le leghe, tra le varie componenti federali in questo momento? Non è che c'è, no, 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 tra le componenti per quanto riguarda la federazione. È chiaro che noi siamo in un periodo di riforme, almeno questo è il nostro auspicio. La mia opinione è che non si debba procedere per strappi, cioè per decisioni unilaterali. Credo che questo sia il primo problema. Dopodiché dobbiamo purtroppo prenderne atto che avvengono. Non ci piacciono. Io certamente difendo l'interesse della Lega di Serie C, ma nel caso della Coppa Italia mi permetto di dire in punta di piedi, ma anche non in punta di piedi, che in realtà il problema che pongo è del sistema Calcio Italia, perché non credo che quella soluzione che è stata avanzata sia positiva per il prodotto Coppa Italia, perché certo c'è bisogno di una riforma, c'è bisogno di una riforma che per esempio per quanto riguarda il sottoscritto dovrebbe mirare più ad acquisire, diciamola in questo modo, un torneo in Davide Golia, cioè di giocare in un'unica partita nello stadio della squadra più debole. Per esempio se si giocasse Taranto-Juventus, Bari-Inter o Foggia-Roma-Napoli, in quello stadio si farebbe il pieno di spettatori, ed io telespettatore, utente della televisione, che abito a Roma, a Firenze, a Milano, pensando e sperando che possa assistere non solo a una partita di calcio, ma anche a scoprire una favola, cioè che una squadra della Serie C metta fuori una squadra della Serie A, quello che è avvenuto in Spagna, dove una squadra ha fatto fuori 4-0 Real Madrid della Serie C spagnola, molto probabilmente io la vedrò. Certo che se per l'ennesima volta mi ripropongo Inter-Juventus, Inter-Napoli, Inter-Fiorentina, ci penso quattro volte prima di vederla ancora. Sarebbe una sorta di superlega formato italiano praticamente? Sì, ma al di là dell'etichetta che gli si può affibbiare, che in realtà si cerca una scorciatoia per risolvere un problema finanziario-economico e non è quella la strada. Però questa è una mia opinione, è l'opinione di Francesco Ghirelli. Che estate si aspetta, Presidente? Un'estate calda sul piano dei problemi anche che stanno avendo, inevitabili, ha fatto riferimento alle prime, anche di carattere economico, perché c'è l'emergenza epidemiologica, c'è anche l'emergenza economica che riguarda il Paese, le attività e ovviamente inevitabilmente anche i presidenti, le proprietà dei vari club. Che estate si aspetta? Allora, dal nostro punto di vista, spero, mi auguro, dai dati che abbiamo, non dovremmo avere una situazione pesantissima, anche se lo vedremo soltanto nel momento in cui inizieranno le iscrizioni. Abbiamo lavorato, lavoreremo, affinché nel Consiglio federale del 17 di maggio ci siano norme di iscrizione che partano dal fatto che le maggiori risorse vengano impegnate nel rilancio delle aziende, delle aziende italiane e delle aziende di calcio e non in altro modo, fermo restando che le regole debbano essere rispettate. Quindi mi aspetto un'estate con qualche problema, ma devo dire che le nostre società, sino a questo momento, hanno reagito meglio di quello che io stesso pensassi e quindi hanno avuto capacità di reazione, di saper governare la situazione economica e finanziaria, poi vedremo. Dal punto di vista sportivo, invece è stata una bellissima stagione sportiva e mi auguro che questo campionato, nel campionato che sono i play-off, possano essere un'altra vetrina importante per la Serie C. Di riforme per ora non ne parliamo? No, io penso di sì, spero di sì. Cioè spero che si inizi a parlare a partire da questo mese. Presidente, grazie per questo contributo e poi se avrà piacere torneremo ad aggiornarci, magari anche nel corso dell'estate, perché comunque sarà un'estate di grande lavoro. Un'ultima cosa, è ipotizzabile un blocco dei ripescaggi in Serie C più appresso per parlarne. Perché è un blocco? No, non lo so, una corsia, siccome se ne parla spesso durante l'estate, no. Lo so, al momento attuale non circola un'ipotesi di questo genere. Intanto per fare un blocco dei ripescaggi bisogna che ci sia uno spazio per i ripescaggi. Al momento attuale questo spazio è zero. Quindi non essendoci ripescaggi non penso nemmeno che ci sia un blocco. Va bene, significherebbe che tutte le società sono in salute, quindi sarebbe una buona notizia in questo senso. Sì, poi tenga conto che prima ci sono le riammissioni, prima dei ripescaggi. È chiaro. Va bene, Presidente, grazie, buon lavoro, torneremo ad aggiornarci. Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie. E allora, contributo importantissimo, quello che ci ha offerto il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a Studio 100 TV avete sentito per quanto riguarda la speranza che si possa andare nella direzione di una riforma per il calcio italiano e soprattutto gli altri punti caldi. Il primo per quanto riguarda i play-off e quindi gli spareggi per andare in serie B è pronto un piano B, quindi un ulteriore slittamento, ma eventualmente anche un piano C che potrebbe prevedere un cambio di format per i play-off. Dipenderà tutto chiaramente dall'emergenza epidemiologica. E poi l'altro tema caldo che abbiamo affrontato con il Presidente è quello relativo all'esclusione dei club di Serie C dalla Coppa Italia Nazionale, ipotesi che evidentemente non è piaciuta neppure al Presidente Ghirelli. Noi ci fermiamo qui e la linea può tornare alla regia.